si che pida tutto su casa la canta ti ho fatto un filmazio? filmazio? come me l'hai detto? io ho trinanzato io ho detto che la foto non è dove sta la nuova? ti tocco? perché sennò mi va a mandare la lecita non vale completo no, non lo stiamo compratando in nessun momento che? che? ciò ci arrivo è che io devo vedere se va a mandare io sono contenta nooo basta eh 2 salteando, 1 a la derecha ah è molto buona è io è molto buona 1 di esquerda o 1 a la derecha mi falta una carta mi falta una carta ah capiste miro tengo peor 2 al medio no è la escalera? 1 a la derecha mi falta una 1 a la derecha 1 a la derecha 1 a la derecha 1 a la derecha stia che parte nostrom no Stavamo studiando, stavamo studiando la presentazione del colegio e non vi, perchè teniamo musica, che se io che di poema, cara No, no, veni a te conoscere Che, devolvi la cuchara Alla, devolvi la cuchara Lo che saca una da casa Come su Que del equipo dico che non è nervioso You andох What, se si non si non venia a ver Siamo anche Ora devo poter un minuto una letra Injustamente Por che? Por aver solo la cucuara No es quella E antes perdonai mal 2 a la derecha Espera, dame vivir 2 a la derecha Non è un po' di mea! No è un po' di mea! 2 in mea! 2 in mea! 2 in mea! Chancho? Nooo! 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 Chocer! Nooo! Nooo! No lo vi! No lo vi! No lo vi! Yo lo mostré con los 4! Si lo mostré con los 4! Si lo mostré con los 4! Si lo mostré con los 4! Aparte es que... Parece rotarse del chancho! Tienes que estar acá todos unidos, así que... Ves? Arqueología! Ves? Vamos a matar! Voy a llorar! No lo vi! Pero la próxima! Para vuelve! ¿Para quién? Para las que vas a hacer! Si! 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 andiamo con l'altra a la derecha una e medio si, 4 una e medio se cambia di joder chancho justicia justicia bellissimo buccan no, no es lo que sé no lo que si no no lo vieron, lo vieron ahora? no 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 veo que con una presión no me lo vieron Non si chiede Va a pregare, no? Come vamo, come vamo? Tres, tutti, tre Ci, 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 ci. ... ... ... ... ... ... Sì! Sì! Che nervio! Chanchurri Dime 3 cartas 2 al compagnolo Adelante Sì! Sì! 2 cartas 2 cartas 2 cartas iguales 2 cartas iguales a la derecha Más importa Yo cumpli loco ¿Qué? 2 al compagnolo de adelante 2 al compagnolo de adelante Chanchurri No! Sì! Me bajó por todos lados No la vi! No la vi! No la vi! Vuelve a hacer perdónese! Ay! La vieja bomba! Te tenés bien porque viene la prensa Te tenés bien porque viene la prensa Chanchurri 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 L'uva Ajá! Chanchurri Chanchurri Hai ninguna comprimido? Chanchurri Chanchurri Prima Che doi io? No, io non ho dire qui No, è... Si stas enojada Enosca la cuchara No, no, no No, no, no No van a tirare la cuchara che... Matiamo a Albi Chacuremono, se dirige chancho arriva Ah, che bella Mandele a... No, 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 no Dale No seas, no, no seas, Charini Chabelle Pero a Rue le llegan o no le llegan? Si, una manera y lo llevó Chancho arriva Un bancho nariz Donde la derecha? Donde la derecha? Chancho! Permiò! 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 Quien dice? Chancho! 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 A mi me pusieron una letra por eso Chancho arriva Chancho arriva Quien tenia dos? No, no, no lo se Quien tenia dos? Dos que? Dos cucharas Chancho! No, no, no lo se